Ogni cellula del nostro corpo contiene una copia del nostro genoma, oltre 20.000 geni e 3 milioni di lettere di DNA. Il DNA è costituito da due filamenti intrecciati in una doppia elica e tenuti insieme da una semplice regola di accoppiamento. A si accopia con T e G con C. I nostri geni formano chi siamo, in quanto individui e come specie. I geni hanno anche un significativo impatto sulla salute, e grazie al progresso degli studi sulla sequenza del DNA, i ricercatori hanno identificato migliaia di geni che influenzano il rischio di sviluppare malattie. Per comprendere come funzionano i geni, gli scienziati hanno bisogno di controllarli. Cambiare i geni nelle cellule viventi non è facile, ma di recente è stato sviluppato un nuovo metodo che promette di migliorare drasticamente la nostra abilità di modificare il DNA di qualunque specie, anche quella umana. Il metodo CRISPR è basato su un sistema naturale utilizzato dai batteri, per proteggersi dalle infezioni causate dai virus. Quando il batterio identifica la presenza del DNA di un virus, produce due tipi di RNA corto, uno dei quali contiene una sequenza che può accoppiarsi con quella del virus invasore. Questi due RNA formano un complesso con una proteina chiamata Cas9. Cas9 è un nucleo, un tipo di enzima che può tagliare il DNA. Quando la sequenza copiata, conosciuta come RNA guida, trova il suo bersaglio nel genoma virale, la Cas9 taglia il DNA, disabilitando il virus. Negli ultimi anni, gli scienziati che studiano questo sistema si sono accorti che può essere realizzata una maniera per tagliare non solo un DNA virale, ma qualunque sequenza di DNA in una posizione precisamente selezionata, cambiando l'RNA guida in modo che si accoppi col bersaglio. E questo può essere fatto non solo in una provetta, ma anche nel nucleo di una cellula vivente. Una volta all'interno del nucleo, il nuovo complesso si aggancia ad una breve sequenza, conosciuta come PAN. La Cas9 slaccia il DNA e lo accoppia col suo RNA bersaglio. Se l'accoppiamento è completo, la Cas9 utilizza due piccole forbici molecolari per tagliare il DNA. Quando ciò accade, la cellula provà a riparare il taglio, ma il processo di riparazione è soggetto a errore e può portare a mutazioni che disabilitano il gene, permettendo agli scienziati di comprendere la sua funzione. Queste mutazioni sono casuali e a volte i ricercatori hanno bisogno di maggior precisione, ad esempio sostituendo un gene mutante con una copia sana. Ciò può essere fatto aggiungendo un altro pezzo di DNA a portatore della sequenza desiderata. Una volta che il sistema CRISPR ha effettuato un taglio, questo modello di DNA può accoppiarsi con le parti tagliate, ricombinando e sostituendo la sequenza originale con la sua nuova versione. Tutto questo può essere riprodotto su cellule di coltura, incluse le cellule staminali, che possono dare vita a tanti tipi diversi di cellule. Il processo può anche essere effettuato in un nuovo fertilizzato, permettendo la creazione di animali transgenici tramite mutazioni mirate. Diversamente dai metodi precedenti, CRISPR può essere usato con molti geni in una volta sola, un grande vantaggio per studiare le complesse malattie umane, che sono causate non da una singola mutazione, ma da tanti geni che agiscono insieme. Questi metodi stanno migliorando rapidamente e saranno impiegati nelle ricerche basilari, nello sviluppo di farmaci, in agricoltura e forse, infine, per curare pazienti umani con malattie genetiche. Grazie a tutti.